Bene, buongiorno a tutti e a tutti, io sono Giuseppe Martinico, insegno di diritto pubblico comparato alla Scuola Superiore Sant'Anna e dirigo il programma STALS insieme a Giacomo delle Donne e a Filippo Fontanelli. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi un grandissimo esperto di Cina e non solo, un collega, un comparatista, il professor Ivan Cardillo che è senior lecturer e vice direttore dell'istituto di diritto straniero e comparato, è membro del centro di ricerca per l'etica delle professioni giuridiche presso la facoltà di giurisprudenza dell'università di Chonan e anche visiting professor presso l'università di Trento dove appunto attualmente tiene dei corsi di introduzione al diritto cinese e anche agent professor presso la China University of Political Science and Law, con cui peraltro noi di STALS abbiamo organizzato anche varie iniziative in passato, ha scritto molto anche su questi temi e anche insomma un grande blog, ha questo blog che è molto interessante sui temi del diritto cinese che vi consigliamo di visitare, fra i suoi interessi di ricerca abbiamo appunto non soltanto il diritto comparato ma anche la storia del diritto e le teorie del diritto, peraltro ha da poco presentato anche una serie di lavori su diritto a nuove tecnologie in Paraguay in occasione del convegno dell'Accademia Internazionale di Diritto Comparato. Ivan appunto ci parlerà di diritto e politica nella Cina di oggi in particolare immagino dopo il congresso ma non ma non soltanto ecco io ti lascio immediatamente la parola e ti ringrazio da te per aver reso questa questo evento insomma una grande opportunità per noi per averlo reso possibile per aver accettato il nostro invito Ivan prego quando sei pronto vai pure, grazie. Grazie, grazie Giuseppe, grazie al professor Giuseppe Martinico per questo invito e per me è un piacere, un onore essere insomma ospite di STALS e della Scuola Sant'Anna di Pisa, quindi è un grandissimo piacere condividere le mie riflessioni su questo tema che è sempre più attuale e non è soltanto un problema, un interesse per gli studiosi del diritto ma in realtà è un tema quello del rapporto tra diritto e politica che tocca un paese, la Cina, che ha un grande effetto sull'ordine giuridico globale, ordine economico globale e quindi capire che cosa accade in Cina in qualche modo significa anche provare a prevedere le ripercussioni che queste riforme interne hanno nell'ordine internazionale, nelle relazioni internazionali. Giuseppe parlava appunto dell'ultimo congresso, subito dopo l'ultimo congresso è partita un'intensa attività di relazioni internazionali di Xi Jinping, è stato in Qatar, è stato che ha ricevuto delegazioni dall'Europa e soprattutto dai paesi nell'area del Pacifico, sta tessendo di nuovo una nuova idea di globalizzazione dove si riafferma il bisogno di un'identità culturale cinese, è quello che oggi viene definito il tema della modernizzazione in stile cinese. Perché bisogna sempre utilizzare queste parole in stile cinese o con caratteristiche cinesi? Perché questo è parte di un percorso di evoluzione che ha seguito la Repubblica Popolare cinese fin dalla sua fondazione. In questa slide vedete Deng Xiaoping che parla di via cinese al socialismo. In suo discorso lui parla della necessità di costruzione di un sistema giuridico moderno. In questo caso per lui moderno significa un sistema giuridico legalizzato dove non si segue come legge la volontà del leader o del partito. Questo è un punto importante perché ci riporta direttamente alla riforma costituzionale del 2018 che ha da un lato formalizzato il ruolo di guida del partito comunista cinese all'interno del socialismo con caratteristiche cinesi e dall'altro lato ha invece eliminato il limite del doppio mandato per il Presidente della Repubblica. In questo caso noi siamo dopo il congresso del partito comunista che tradizionalmente avviene ad ottobre in occasione della fondazione della Repubblica Popolare cinese il primo ottobre del 49 ma siamo ancora prima della doppia sessione della Liang Hui che si riunisce in genere a marzo ed è la riunione, la seduta plenaria dell'Assemblea Nazionale del Popolo e della conferenza politico-consultiva del popolo cinese, cioè il momento in cui legge vengono all'interno delle istituzioni della Repubblica. Quello che abbiamo visto invece ad ottobre è stata la riconferma di Xi Jinping a segretario del partito per la terza volta, ma appunto è una nomina politica. La formalizzazione istituzionale avverrà a marzo. Ecco, questo passaggio è al cuore proprio del rapporto tra diritto e politica in Cina ed è il leitmotiv che in qualche modo tiene insieme tutto il percorso di riforme istituzionali accadute in Cina e anche l'attività di studio dell'Occidente, degli studiosi occidentali dove troviamo due filoni distinti. Un gruppo di studiosi che guardano alle riforme cinesi auspicando ad una sempre maggiore somiglianza con le istituzioni e con i sistemi occidentali dove appunto l'Occidente è considerato come questo sistema giuridico ideale che deve essere esportato e dall'altro lato abbiamo invece degli studiosi che provano a guardare l'evoluzione del diritto cinese nella sua autenticità, nella sua unicità. Ecco, è in questa trasposizione, sovrapposizione di categorie e di modelli che si gioca tutta l'evoluzione del sistema giuridico cinese nel periodo post-rivoluzione culturale. Questa citazione di D'Enzio Ping, vedete, del 1983, la rivoluzione culturale finisce nel 78 e con questa rivoluzione culturale si chiude anche il capitolo della sovietizzazione del diritto cinese e inizia un percorso diverso voluto da D'Enzio Ping, impostato da D'Enzio Ping in qualche modo. Dunque, bisogno di autenticità, vediamo nel 78 appunto la fine della rivoluzione culturale cinese e l'idea che bisogna costruire una democrazia e un sistema giuridico, cioè creare le basi normative del sistema giuridico, quindi adottare tutta una serie di leggi che non erano state adottate, la Costituzione in vigore ad esempio del 1982, quindi si riparte, si riapre una fase costituente vera e propria. Nel 97 c'è il 15esimo congresso del partito che è importante perché si inizia a parlare di una sempre maggiore necessità di uno Stato di diritto, per cui vedete nel 99 entra nella Costituzione il concetto di governo del Paese in base alla legge, nel 2004 entra nella Costituzione nel rispetto dei diritti umani e politicamente e legislativamente con l'Assemblea nazionale del popolo nel 2011 viene affermato il completamento della costruzione fondamentale delle leggi di base del sistema giuridico socialista. Con il 2014 e quindi il periodo che vede sempre di più l'ascesa di Xi Jinping, il discorso sullo Stato di diritto diventa sempre più importante e appunto vediamo questa nuova frase che compare nella retorica politica cinese, ovvero la necessità di costruire, di definire la via dello Stato di diritto, utilizzare un sistema di Stato di diritto, una teoria di Stato di diritto, un principio di Stato di diritto, uno Stato di Stato di diritto, insomma un governo di Stato di diritto, una società di Stato di diritto e una Cina Stato di diritto. Qui l'utilizzo della parola Cina non è in funzione di aggettivo dello Stato di diritto, per cui non si tratta di cercare gli elementi essenziali di uno Stato di diritto cinese, quindi di una versione cinese dello Stato di diritto, ma l'utilizzo linguistico è opposto, per cui Stato di diritto è utilizzato in funzione di aggettivo, per cui una Cina di Stato di diritto, dove appunto la Cina in qualche modo prova ad avvicinarsi ad un concetto simile a quello occidentale di Stato di diritto, ma come percorso endogeno, come percorso interno. Perché si utilizza la parola Stato di diritto? Perché era una delle parole chiave, uno di quei concetti essenziali che la Cina deve recepire alla fine del millennio per entrare nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, è un passaggio obbligato che la Cina ha dovuto fare nel momento in cui è entrata nell'Organizzazione Mondiale del Commercio e ha preso una serie di impegni di riforme interne, che insomma qui non valutiamo come questo sta procedendo, però è un percorso di riforma interna che la Cina prova a declinare sempre di più a livello individuale. Vediamo un passaggio da questo fudge a sinistra a questo fudge a destra, si leggono alla stessa maniera, cambia soltanto un carattere, ma in questo cambiamento linguistico c'è tutto un intero passaggio dall'idea di un utilizzo strumentale della legge, il cosiddetto rule by law, ad un'idea di legge invece che non può essere utilizzata a livello strumentale e che invece è fondamento e legittimazione dell'azione di governo, quindi qui a destra questo passaggio linguistico ha richiesto circa 20 anni nel dibattito dottrinale cinese. Nel primo J, qui insomma qualche piccolo elemento di lingua cinese, qui questa parte a destra è un radicale che significa Tao, ecco questo che vedete qui in parentesi, che in realtà significa coltello, lama, per cui l'idea di un utilizzo strumentale del diritto come viene utilizzata la lama e questo Tao qui in realtà è il radicale che indica anche la pena, il diritto penale e qui c'è tutto un bagaglio culturale legato appunto al diritto penale come insomma pene legate ai tagli, c'era il taglio della mano, del naso, del piede e così via, fino alla pena capitale, ecco quindi questo utilizzo strumentale e il passaggio invece a quest'altro Fa che qui vedete nella forma semplificata, nella forma tradizionale è un carattere più complesso dove qui i vari radicali sono raffigurati in vari elementi, dove abbiamo a sinistra l'acqua che indica l'equità, a destra questo unicorno che è il dio della giustizia e che riconosce il vero dal falso e qui l'uomo che quando condannato deve abbandonare il proprio villaggio, deve allontanarsi quindi l'idea di una comunità fondata su un'idea del giusto e dell'equo nel 2011 le caratteristiche cinesi dell'esperienza socialista cinese vengono definite come quelle caratteristiche legate alla cultura legate alle tradizioni storiche e al bisogno di ereditare la tradizione quindi questo è un passaggio importante, dobbiamo comunque tenere a mente che alla fine della rivoluzione culturale gli studi giuridici in Cina erano quasi inesistenti c'era la Cina imperiale che termina nel 1911 abbiamo un periodo che va da 1911 a 1949 fatto di varie guerre interne vince il partito comunista cinese, c'è la fondazione della repubblica ma già dal 66 al 78 c'è la rivoluzione culturale per cui la Cina non ha tempo di costruire un studio giuridico moderno come lo intendiamo noi per cui c'è anche questo elemento legato proprio alla formazione di una scuola di diritto delle scuole giuridiche che si formano in maniera abbastanza repentina attraverso sostanzialmente dei progetti di scambio le facoltà di giurisprudenza in pochi anni passano da 10 a 600 in tutto il paese c'è un'esplosione degli studi giuridici che però questa esplosione non è tenuta insieme da un'idea filosofica, culturale, intellettuale per cui a un certo punto e qui insomma negli ultimi dieci anni si avverte sempre di più il bisogno di ricondurre ad un sistema culturale coerente tutto ciò che è stato prodotto per cui tutto il fenomeno dei trapianti giuridici che è accaduto va adesso reintegrato in una cultura giuridica coerente ed è questo il tentativo che sta facendo Xi Jinping con questa grande enfasi sulla tradizione cinese per cui ci sono queste tre anime che caratterizzano il sistema giuridico cinese attuale e le sue possibilità di sviluppo abbiamo da un lato la tradizione e in basso abbiamo l'occidente e il socialismo sono entrambi, sia l'occidente che il socialismo sono entrambi prodotti occidentali, stranieri ma vengono in questo caso, li ho distinti perché il socialismo riguarda soprattutto l'ideologia politica e l'occidente riguarda appunto quel fenomeno di trapianto giuridico che è costante dalla fine degli anni 70 la tradizione è questo elemento di ibridazione che è il carattere essenziale di questa ricerca di identità di una modernizzazione in stile cinese quindi fin dall'idea di Mao dell'adozione del socialismo in Cina già si parlava di un'idea di sinizzazione del socialismo per cui questo lo vediamo molto evidente nel preambolo della Costituzione ma è un percorso ancora in divenire perché mutano le condizioni del paese adesso lo vediamo successivamente in un passaggio di Xi Jinping per cui queste sono le tre anime i tre formanti si direbbe che in qualche modo condizionano l'evoluzione del diritto e la traiettoria è indicata in questa slide abbiamo da un lato la tradizione e la modernità e dall'altro lato l'occidente e la Cina e lo sforzo che sta avvenendo in Cina è la necessità di ricercare un giusto equilibrio tra questi elementi dove modernizzazione non equivale a occidentalizzazione e dove quindi è possibile avere una via cinese alla modernizzazione questo era una delle parole chiave dell'ultimo congresso del partito il queridiano del popolo ha dedicato varie pagine al tema alla modernizzazione in stile cinese per cui la modernità non equivale a una occidentalizzazione anche in termini di categorie giuridiche e quindi anche in termini di pensiamo insomma alle categorie giuridiche occidentali considerate l'avanguardia del pensiero moderno giuridico tutela dei diritti umani, democrazia e così via la Cina da questo punto di vista prova a fare uno sforzo per creare una nuova strada moderna ma al tempo stesso cinese e questo è permesso grazie alla tradizione che però deve essere ereditata e questo diciamo è una sfida ancora aperta il pensiero di Xi Jinping sullo stato di diritto Xi Jinping ha dapprima presentato il suo pensiero per un socialismo con caratteristiche cinesi di nuova era e successivamente ha prodotto una serie di pensieri c'è il pensiero su un esercito forte sulla civiltà ecologica sulla diplomazia sull'economia e poi un pensiero dedicato appunto allo stato di diritto c'è un punto interrogativo nella slide perché questa lista di pensieri è destinata a continuare, a crescere non è una lista chiusa il pensiero di Xi Jinping sullo stato di diritto ha tre fondamenti logici abbiamo la prassi e in questo senso si fa riferimento alla prassi all'esperienza di guida maturata dal partito comunista e qui anche la narrativa della grande liberazione dall'oppressione straniera dalla liberazione dalla povertà e così via è un passaggio importante in tre giorni fa sul quotidiano del popolo c'era un articolo sulle condizioni sullo stato dell'economia cinese e si diceva chiaramente c'era questa frase molto rappresentativa della situazione attuale se prima dice l'articolo bisognava preoccuparsi di ottenere una ciotola di riso adesso teniamo ben salda nelle nostre mani la ciotola ovvero insomma questa capacità di produrre ricchezza di liberare dalla povertà e soprattutto di migliorare le condizioni di vita del popolo questo è un elemento di legittimazione molto forte per cui l'idea della prassi è sempre presente nel discorso costituzionale cinese la teoria è qui in questo senso una continuazione nel percorso di sinizzazione del marxismo del leninismo e del perfezionamento appunto del quadro ideologico del socialismo cinese e poi la storia come valorizzazione della civiltà cinese e qui tutti gli elementi legati al bisogno di continuità con il passato per cui ad esempio in questo caso è bene ricordare che insomma durante la pandemia la Cina ha fatto tante cose tra cui l'adozione del codice civile cinese 80 milioni di persone che si versavano ancora in condizioni di povertà assolute sono uscite da questa condizione e poi è stato scoperto il sito archeologico di Xuanzhuayxu che dovrebbe essere la prova definitiva dell'esistenza della dinastia Shang e in qualche modo quindi ricollegare la continuità del popolo cinese alla preistoria e a un punto ancora più risalente nel tempo ecco il bisogno di continuità storica che è stato un elemento è un elemento politico anche importante ricordiamo il ricevimento di Trump nella città proibita nella sede imperiale tradizionale questo non era mai accaduto in passato quindi anche questo utilizzo importante della storia che in termini politici insomma non abbiamo tempo ma c'è anche tutto il discorso della storia dell'umiliazione dei trattati inuguali disuguali e così via insomma la questione della memoria è un elemento importante quando Xi Jinping presenta il suo pensiero sullo stato di diritto tutti i professori delle facoltà di giurisprudenza e non solo hanno dovuto seguire un corso obbligatorio ecco qui è la cerimonia di lancio del corso online di formazione obbligatoria nel pensiero di Xi Jinping sullo stato di diritto insomma questo è il mio piccolo certificato anche io ho dovuto seguire il corso l'estate scorsa perché appunto è un corso obbligatorio dove sono stati presentati tutti i vari elementi ci sono state undici lezioni ogni lezione è legata a uno dei principi fondamentali ecco i principi fondamentali sono c'è un elenco di undici principi che riassumono il pensiero di Xi Jinping sullo stato di diritto abbiamo appunto la leadership del partito il ruolo guida del partito che deve essere è un ruolo fondato sul governo adesso insomma ci ritorniamo tra un attimo su questo punto un governo basato sulle persone ecco questo è un altro principio i renminu e i chiamshin ovvero un'azione di governo con il popolo al centro la centralità del popolo rimanere sulla strada dello stato di diritto socialista con caratteristiche cinesi per cui l'adesione alla la riconferma del percorso di riforme che è stato che è avvenuto e che è stato avviato e che è in corso d'opera questo è un passaggio importante perché si ricorlega ad un altro principio che è quello della del bisogno di avere autostima nel proprio percorso insomma un altro concetto politico delle quattro autostime aderire alla governance basata sulla costituzione ecco qui ci sono vari principi che richiamano una forma di principio di legalità cinese che definiremo in chiusura poi la promozione della modernizzazione del sistema di governance e della capacità di governo della Cina lungo il percorso dello stato di diritto qui soprattutto è il ricorso agli strumenti di intelligenza artificiale e a strumenti sempre migliori di gestione dell'attività di governo poi appunto l'adesione a uno stato di diritto socialista con caratteristiche cinesi quale elemento fondamentale della costituzione e dell'ordine intero per cui ad esempio modificare lo stato di diritto e quindi pensare ad uno stato di diritto che non abbia caratteristiche cinesi è incostituzionale sarebbe incostituzionale proseguire attraverso progressi coordinati nella governance basata sul diritto l'esercizio del potere statale basato sul diritto qui questo è il cosiddetto passaggio dei sedici caratteri che ho sintetizzato successivamente in un'altra slide applicazioni imparsali della giustizia e un approccio coordinato tra lo stato di diritto in patria e le questioni che coinvolgono parti straniere qui ci sono gli elementi anche per uno stato di diritto cinese a carattere internazionale poi promuovere la classe di operatori del diritto professionisti ecco voi dovete sapere che fino a qualche anno fa era possibile diventare giudici senza avere una laurea in giurisprudenza un altro dei corsi obbligatori che ho dovuto fare come docente in una facoltà di giurisprudenza è stato quello sull'etica delle professioni legali che è diventato obbligatorio un corso obbligatorio in tutte le facoltà di giurisprudenza dal 2018 in seguito alla riforma dell'esame di accesso alle carriere e alle professioni forensi ecco cosiddetto FACAO i requisiti di professionalità sono stati innalzati appunto adesso si richiede una laurea in giurisprudenza e l'aver eseguito un periodo di pratica ad esempio per cui questi sono elementi che insomma hanno un senso importante per lo stato di evoluzione del sistema giuridico cinese ecco da noi sembrerebbe strano parla di professionalità degli operatori del diritto ma nel contesto cinese in realtà è importante ricordarlo e qui l'ultimo punto garantire che i principali funzionari ai vari livelli attuino fedelmente le principali decisioni piane adottate dal governo centrale dal partito centrale questo è un elemento importante e questo ad esempio è legato ad uno dei problemi dell'amministrazione cinese che in qualche modo è stato anche all'origine dell'epidemia che è diventata pandemia cioè il cosiddetto problema del rapporto tra principale agente cioè il rapporto tra organi centrali e organi periferici la Cina è un paese enorme e garantire che tutte le direttive vengano applicate fedelmente a livello locale non è facile e a livello locale c'è spazio per decisioni discrezionali che a volte possono appunto minare i piani centrali o contenerli per cui la Cina sta pensando a vari strumenti ci sono i comitati di supervisione ci sono anche gli esami di controllo delle performance insomma ci sono strumenti per valutare l'attività svolta a livello locale però allo stesso tempo insomma questo è un problema che è presente ecco questa distanza per cui noi spesso dall'occidente abbiamo l'idea che tutto ciò che pensa si impegni diventa azione in un villaggio rurale a migliaia di chilometri di distanza ma in realtà insomma non è così e questo principio ricorda lo ricorda all'interno del pensiero sullo stato di diritto la riforma costituzionale del 2018 è emblematica perché all'articolo 1 secondo comma è inserito il paragrafo dove si dice chiaramente che la guida del partito comunista cinese è la caratteristica distintiva del socialismo con caratteristiche cinesi per cui il socialismo per avere le caratteristiche cinesi deve riconoscere il ruolo guida del partito sembrerebbe un principio scontato perché è sempre stato così in Cina ma era così per una condizione di fatto per una condizione legata allo status quo a ciò che di fatto accadeva in Cina c'era un partito che esercitava un potere più forte degli altri partiti e quindi insomma dettava l'agenda di governo però il bisogno di costituzionalizzare questo principio è quel passaggio ulteriore dove l'attività di governo deve essere supportata da un testo normativo ed è quello che Deng Xiaoping all'inizio denunciava nella sua riflessione quando lui parlava appunto negli anni 80 del problema di legalità del sistema per cui ciò molte cose accadevano perché così era deciso dal leader dal quadro del partito senza un dato normativo che legittimasse determinate richieste a questo dato normativo poi ne consegue un sistema di responsabilità di governo e questo quindi è un passaggio importante che va registrato così come l'abolizione del limite del doppio mandato la necessità del leader di Xi Jinping di restare all'interno di un quadro di legalità è avvertita lui poteva rimanere di fatto leader del partito e della Repubblica senza alterare la Costituzione ma invece sente il bisogno di alterare la Costituzione di modificarla questo perché se si può modificare la Costituzione a proprio piacimento potremmo dire la Costituzione ha un valore ricordo le parole di Giuseppe Bologna con le cosiddette Costituzioni di facciata si tratta di una Costituzione di facciata di una Costituzione sostanziale e qui è questo il cosiddetto problema dialettico all'interno del sistema giuridico cinese dove in realtà è un problema che va affrontato dalla logica diversa da quella occidentale per cui non due elementi che sono in un rapporto antitetico quindi tesi e antitesi secondo una logica aristotelica ma nel contesto cinese è come una logica taoista dove in realtà questi due elementi si sostengono a vicenda e dove nessuno in realtà prevale sull'altro infatti durante il nostro corso di formazione fu fatta la domanda ma allora è più importante il partito rispetto alla Costituzione o è più importante la Costituzione rispetto al partito e la risposta fu che in realtà questa domanda non deve non non è rilevante perché questi due elementi vanno interpretati secondo questa logica taoista di mutuo sostegno perché questo è sempre molto istruttivo leggere il preambolo della Costituzione della Repubblica Popolare Cinese il preambolo chiarisce che l'esistenza stessa della Repubblica Popolare Cinese è merito del partito comunista per cui pensare ad una Repubblica popolare senza il partito comunista è un controsenso andrebbe contro i fatti contro la storia ecco per cui se un osservatore occidentale ha bisogno di trovare un elemento di coerenza in questo dalla prospettiva cinese in realtà questa ambiguità può esistere senza difficoltà all'interno appunto di una logica di alternanza di complementarietà degli opposti e non di loro reciproca esclusione accanto al pensiero sullo stato di diritto è stato anche creato un piano vero e proprio dal 2020 al 2025 dove sono una serie di riforme che dovrebbero portare auspicabilmente ad una piena realizzazione dello stato di diritto entro il 2025 per cui si parla di adesione alla direzione unitaria centralizzata del partito con Xi Jinping come fulcro ecco qui è importante questa distinzione tra il partito comunista cinese e Xi Jinping come fulcro come cuore del partito perché questo pone Xi Jinping in una posizione di maggiore leadership rispetto al partito comunista stesso quindi in un certo senso Xi Jinping sta anche lavorando ad un sistema di regole per controllare anche il partito dove lui comunque resta il fulcro e quindi resta in una posizione diciamo privilegiata rispetto agli altri membri del partito il perfezionamento dell'impianto ideologico il bisogno di posizionare il popolo al centro Yir Minwei Chongqing di nuovo quest'idea di servizio nei confronti del popolo e di maggiore tutela dei diritti e degli interessi legittimi e tutto questo è un elemento importante l'ultimo punto la considerazione costante della realtà concreta del paese sono le cosiddette guoqing cioè le condizioni del paese che si ricollegano a quell'elemento legato a quei principi quei tre fondamenti logici del pensiero di Xi Jinping è quello legato alla prassi cioè la prassi quindi la prassi di governo sviluppata dal partito comunista che è una prassi legata alla capacità di interpretare le condizioni economiche del paese e quindi qui tiene insieme l'impianto generale per cui il partito resta ancora legittimo e saldo al potere fintanto che porta un beneficio economico al popolo e qui l'idea che è evocata nell'articolo del quotidiano del popolo di tre giorni fa della ciotola di riso ben salda in mano cioè di un partito che è capace di avere le redini del sistema economico ecco quindi questo è un passaggio molto importante Xi Jinping infatti a un certo punto parla di società moderatamente prospera e fa riferimento appunto alle condizioni alla contraddizione tra le condizioni reali di vita e le aspirazioni di vita del popolo cinese ecco quindi quest'idea di essere interprete delle condizioni del paese e in questo senso è stato fondamentale il contributo di Jiang Zemin che è insomma venuto a mancare qualche giorno fa dove a lui si deve l'idea delle tre rappresentanze o delle tre rappresentatività cioè del popolo cinese che riesce a rappresentare la forza produttiva del paese la cultura avanzata del paese le aspirazioni del popolo ecco quest'idea di rappresentatività che passa attraverso questi canali entro il 2025 per il piano bisogna raggiungere l'unità organica di una serie di meccanismi di mutua cooperazione di mutuo controllo del potere giurisdizionale di governo del paese in base alla legge e per il 2035 invece bisogna arrivare ad una Cina di stato di diritto il passaggio è anche in questo caso c'è un passaggio di quelle che sono i cosiddetti 16 caratteri i caratteri che vedete in questa prima fila sono i caratteri che venivano utilizzati erano appunto le linee guida utilizzate nel periodo di Densiaoping per cui io fa HB io fa PIG fa PN io fa PGO cioè quando c'è una legge bisogna bisogna affidarsi alla legge c'è la legge bisogna utilizzare la legge bisogna applicare in maniera rigorosa la legge e ricercare le violazioni della legge si passa ad un nuovo paradigma che è quello della legislazione scientifica di una rigorosa applicazione della legge di una applicazione all'interno appunto degli organi amministrativi da parte dello Stato di una equa giustizia e del rispetto della legge da parte dei cittadini il pensiero di Xi Jinping dunque riequilibria ripensa in qualche modo il rapporto tra Stato Partito e Popolo si parla di Popolo che deve restare al centro e di questo rapporto di complementarietà tra Stato e Partito dove appunto tutto è tenuto insieme da questo metodo dialettico che deve avere come obiettivo quello indicato dal piano cioè la possibilità di ottenere di raggiungere una unità organica quindi di una capacità di collaborazione e di efficienza nel lavoro i Faj Guo quindi se da un lato lo sviluppo di uno Stato di diritto dall'altro lato i Gui Jetang c'è una gestione del partito sempre più basata sulle regole del partito per cui parallelamente c'è un principio di legalità sempre più crescente all'interno del partito ed è in questa maggiore legalizzazione nello Stato e nel partito che si tiene insieme con l'unità organica all'interno di quel metodo dialettico tra partito e Stato che abbiamo visto ad esempio nell'articolo 1 secondo coma della Costituzione vi ringrazio e sono a disposizione di domande ecco grazie mille Ivan per questa presentazione molto esaustiva io avrei già delle domande ma prima di diciamo monopolizzare la sessione vorrei prima chiaramente coinvolgere le nostre amiche e i nostri amici che sono diciamo nel pubblico e quindi se avete domande per favore prenotatevi in chat oppure utilizzate la manina virtuale di Webex e io vi darò la parola ci sono domande allora se si vedo Anna del Dili Castro prego Anna si salve buongiorno allora dovrei accendere la webcam però sto in tenuta casalinga non ti preoccupare anche se come vuoi tu Anna vai tranquilla ok si vede che sono un po' in tenuta casalinga comunque salve buongiorno io volevo chiedervi una cosa siccome che mi sto occupando dei giganti del digitale quindi nel mio settore di ricerca e in particolare ho avuto modo durante questi tre anni di dottorato anche di verificare un po' quello che sta accadendo in Cina perché come abbiamo le grandi società web negli Stati Uniti anche in Cina ci sono i grandi del digitale i famosi Baidu Alibaba e Tencent se non sbaglio allora a me il fatto è stato molto interessante questo intervento del professore perché soprattutto ho trovato interessante questo richiamo alla riforma costituzionale del 2018 in cui ho posto attenzione a questa frase cioè quando si dice ogni attentato al sistema socialista è proibito da parte di un individuo di un'organizzazione perché mi ha richiamato alla mente quello che Lessi a proposito di Xi Jinping a proposito proprio dei grandi del digitale sul lato cinese quando disse che non avrebbe tollerato cioè che la Repubblica Popolare Cinese non avrebbe tollerato un'espansione distorta del capitale e da qui mi è venuto lo stimolo anche diciamo di indagare quello che accadeva sostanzialmente in Cina con la legge sull'antimonopoli la riforma dell'antimonopoli adesso in cinese non so come come si pronuncia però e quindi da questo punto di vista ero incuriosita di sapere qualcosa in merito a questo cioè dal punto di vista economico no? che cosa sta accadendo da questo punto di vista con i giganti del digitale perché mentre negli Stati Uniti si sono società americane noi GAFAM però l'America in qualche modo attraverso una serie di proposte di legge sta cercando di limitarne di aggirnarne il potere questo sta accadendo anche in Cina però in modo diverso secondo me ricordo questa famosa prima pagina del The Economist adesso non ricordo se erano due anni fa forse in cui veniva messo proprio in evidenza tramite una immagine questo diverso rapporto tra gli Stati Uniti e la Cina cioè l'immagine rappresentava nel caso degli Stati Uniti l'Aquila che poi è il simbolo comunque anche degli Stati Uniti che sostanzialmente non riusciva a dominare i grandi del digitale mentre nel caso cinese c'era proprio un'immagine differente in cui il drago sostanzialmente li dominava dominava diciamo anche a livello proprio grafico due rappresentazioni diverse quindi ero in curiosità da questo aspetto perché appunto quel riferimento alla riforma costituzionale del 2018 ma subito richiamato alla mente questa frase di Xi Jinping a proposito dell'espansione distorta del capitale che non sarebbe stata tollerata in Cina quindi era una curiosità la mia grazie mille Anna io se sei d'accordo Ivan raccoglierei le domande sei d'accordo? Benissimo allora vedo Silvia che la manderei prego grazie grazie a Ivan per questa illustrazione molto completa dell'evoluzione del dibattito cinese sulla relazione sullo stato del diritto innanzitutto vorrei un chiarimento da parte di Ivan sulla questione proprio della espressione cinese per stato di diritto che è già un governare in base alla legge insomma diciamo è una sfumatura rispetto a a quanto diciamo intendiamo noi con stato di diritto indubbiamente è uno stato di diritto con caratteristiche cinesi come tutte le cose che in questo momento ci vengono dalla Cina l'intreccio tra primazia primato del partito e stato di diritto è tema complesso fin dagli anni cinquanta quando i nostri costituzionalisti Calamandrea e Bobbio visitarono la Cina nel cinquantacinque già nei loro commenti sulla costituzione e la magistratura rilevavano questa contraddizione perché il primato del partito partito unico e metteva in grande discussione l'autonomia della magistratura il tema dell'indipendenza della magistratura è sicuramente un tabù per la Cina e quindi questo mina in qualche modo la nostra concezione occidentale dello stato del diritto e questo è sempre diciamo un elemento diciamo caldo per i cinesi tanto è vero che ogni volta che sono state tradotte diciamo opere di Piero Calamandrei gli amici cinesi hanno sempre rilevato che c'era un problema proprio sui passaggi che riguardavano l'indipendenza della magistratura e preferivano in qualche modo censurarli o scartarli piuttosto che commentarli direttamente quello che vorrei chiedere a Ivan è se secondo lui rispetto alle quattro diciamo formule del periodo d'Ensiaoping in cui c'era una sorta di primato della legge e quindi potremmo dire che è un sistema di legalità a cui per esempio Calamandrei si abbarbicava anche sotto il fascismo cioè la legge è legge il giudice deve eseguire la legge e invece a questa nuove formule le quattro formule che ci sono oggi cioè se c'è un arretramento rispetto al principio di legalità perché questa è l'impressione che si ricava da tanti atti del governo cinese soprattutto anche di persecuzione della libertà di espressione di insegnamento e quant'altro grazie grazie mille passo la parola adesso all'amico Pasquale Annicchino prego Pasquale salve grazie buongiorno ringrazio anch'io per la relazione io seguo un po' le cose cinesi per quel che posso perché è uno dei corsi che faccio si occupa un po' anche come dire della sorveglianza rispetto alle minoranze religiose che è un tema diciamo abbastanza caldo vorrei portare il discorso dalla dimensione del diritto interno a quella del diritto internazionale se così vogliamo rispetto al posizionamento cinese nelle organizzazioni internazionali sulle questioni dei diritti umani a mio avviso diciamo questione molto critica viste i ripetuti tentativi di censura fatti dal governo cinese rispetto alla pubblicazione del rapporto che la Bachelet ha pubblicato solo il 31 agosto a mezzanotte per non dover fare la conferenza stampa e spiegare cosa c'era nel rapporto e le numerose difficoltà incontrate dai funzionari nelle Nazioni Unite per accedere in Xinjiang e fare delle verifiche e soprattutto il posizionamento credo del governo di Pechino che spesso e volentieri vota ormai stabilmente con i regimi autoritari insieme alle Nazioni Unite mi chiedo quanto questa dinamica interna si rifletta anche sulla dinamica esterna internazionale grazie grazie a te Pasquale e se non ci sono altre domande aggiungerei due cose preferisci prima di rispondere a queste l'importante è chiudere entro le 11 e 30 dimmi tu si guarda preferisco rispondere a queste vai grazie allora grazie per queste domande insomma grazie Silvia per esserti connessa vorrei ricordare partiamo da Denzio Ping perché queste tre domande possono essere tenute insieme partiamo da Denzio Ping lui rilascia un'intervista a Wallace e Wallace e Wallace ha due domande è possibile avere la democrazia in Cina in un paese socialista e Denzio Ping risponde sì ma non quella che pensate voi se riconoscessimo la libertà di sciopero a tutti ogni giorno ci sarebbe uno sciopero più nessuno lavorerebbe per cui questo spirito pragmatico e stessa domanda un paese socialista può essere ricco e Denzio Ping rispose anche che in quell'occasione sì ma non ricco come in occidente la ricchezza è dell'intero popolo l'intero popolo può essere ricco però aggiunge Denzio Ping non si può arricchire un popolo intero così insieme ecco bisogna permettere che alcuni si arricchiscano prima e poi ribilanciare l'economia interna ed è quello che sta avvenendo con le grandi società tecnologiche che la collega Li Castro ha richiamato quella la maxi tassa vista da Xi Jinping la cosiddetta la prosperità comune Gondon Fu e quello lì è è l'idea di dover ridistribuire al popolo parte di una ricchezza che è stata accumulata grazie ad un'eccezione ammessa dal 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 partito dal governo cioè tutta l'evoluzione del diritto che avviene dagli anni settanta in poi è un'evoluzione che insegue l'economia è un'evoluzione che insomma subito dopo gli anni insomma c'è qui un'immagine bellissima di Calamandrei appunto su queste isole come cantiere costituzionale lui è lì nel 55 è il cantiere costituzionale che prende forma poi c'è la rivoluzione culturale subito dopo bisogna costruire il paese da capo e lì per esempio c'è la cosiddetta giornata delle sette leggi in un giorno la legge organica per i giudici per la procedura e così via e iniziare a creare quelle leggi che portano il capitale quindi la prima legge è quella sulle joint ventures in o straniere e così via per cui è un diritto che insegue l'economia per questo l'esperienza di Deng e quella successiva è un'esperienza molto gradita all'occidente perché è un diritto che segue i bisogni del commercio i bisogni degli scambi per cui a un certo punto la legge sulla proprietà intellettuale è perché bisogna tutelare le aziende straniere principalmente che vogliono un sistema affidabile per tutelare i propri investimenti per cui assistiamo ad un diritto che segue sempre le esigenze economiche fino a quando con Xi Jinping adesso lui vuole riportare la centralità dell'ideologia nel sistema per cui tutte le eccezioni che sono state fatte all'ideologia in nome di interessi economici quindi tutti quelli strappi alle regole fatte anche da Deng Xiaoping e da chi dopo di lui adesso con Xi Jinping non sono più ammesse perché? perché la Cina ha raggiunto un grado di livello di sviluppo sufficiente a poter essere indipendente per cui c'è stato lo sdoppiamento della circolazione economica sempre durante la pandemia la Cina inizia ad innovare i progetti sulla luna per cui ormai ha raggiunto quel livello tale che adesso l'attenzione è nella coerenza ideologica interna nella coerenza del mercato interno riparare a determinate crescite sproporzionate o dannose pensiamo al Big Tech e alle grandi aziende del Tech in Cina che hanno creato una cultura del lavoro non so il periodo di lavoro 9-9-6 lavorare dal 9 del mattino alle 9 di sera 6 giorni alla settimana ha comportato una serie di stress sociali che devono essere corretti casi di suicidio insomma condizioni di lavoro inadeguate per cui lo sforzo che io vedo da parte del partito è di riportare la centralità sull'ideologia anche quelle riforme che uno insomma la Cina vede arretrare in determinati aspetti è proprio dovuta alla necessità di recuperare una solidità ideologica ecco quello che è accaduto in passato era in qualche modo un'eccezione cioè il principio della prosperità comune era presente già dal 50 e Xi Jinping lo ha ritirato fuori qualche anno fa ma comunque era un principio che era lì nel bagaglio ideologico cinese ed era nell'agenda e che la parabola ha richiesto dei decenni e adesso è tornato di nuovo all'ordine del giorno così come altri principi per cui da un certo punto di vista Xi Jinping è in piena continuità però questo accentramento di potere che tutti noi registriamo nella sua figura è perché le contrazioni i conflitti di interesse interni alla società cinese sono talmente forti che richiedono una leadership forte ad esempio poter dire a Jack Ma di dover pagare delle tasse o ai giganti del tech di controllare quel capitale è richiede le poliporte stiamo tutti noi guardando in questi giorni il caso del falimento dell'azienda appunto FTX l'11% degli investitori erano cinesi residenti in Cina e gli altri cinesi residenti a Singapore e scusami scusami c'è un po' di problemi c'è un flusso gestire una società così complessa Ivan mi senti? abbiamo un po' di problemi col tuo video e con l'audio quindi forse ti conviene spegnere la webcam e usare solo il microfono perché a un certo punto ti perdiamo e ti vediamo congelato ecco vai prova adesso vai e quindi sì l'idea appunto la necessità di avere una leadership forte per poter rimediare delle strutture interne che nel corso degli anni hanno portato alla costituzione di centri di interesse molto molto forti ecco per cui in questo senso l'accentramento il rafforzamento del ruolo di leader di Xi Jinping anche come fulcro del partito stesso ha a mio modo di vedere questa necessità concreta e questo ha una necessità concreta anche a livello internazionale e qui arrivo all'ultima domanda di nuovo l'esportazione di modelli giuridici e l'esportazione di valori giuridici qui diventa di nuovo un tema un tema sensibile ecco noi nella nostra cultura giuridica abbiamo una serie di priorità appunto rispetto dei diritti umani e così via in quell'esperienza lì abbiamo visto nel 2004 rispetto dei diritti umani un principio della costituzione però la declinazione di quei diritti umani è diversa per cui il partito dice i diritti umani sono vari sono tanti in alcuni casi sono in conflitto tra di loro per cui il punto di partenza per capire per declinare la comprensione dei diritti umani in Cina è quello che era indicato nelle slide da un certo punto nel piano di sviluppo dello stato di diritto cioè le condizioni concrete del paese e lì sul rispetto delle condizioni concrete del paese il partito riesce a creare una gerarchia dei diritti umani e il primo è il dovere di garantire la stabilità e la sicurezza sociale e in quel quadro appunto le attività che possono destabilizzare questa insomma la stabilità la sicurezza del paese vengono ristrette e per questo insomma in questo contesto in quest'ottica si giustifica la censura e si giustificano anche altri strumenti di controllo questo porterebbe in ultima analisi a capire quale sistema funziona meglio ed è questa la critica che poi i governi si fanno a vicenda quando Biden qualche mese fa convoca il summit mondiale dei paesi democratici non invita la Cina e la Cina il giorno prima del summit pubblica un white paper sullo stato di salute della democrazia negli Stati Uniti d'America e citando ad esempio Tocqueville nei lavori nel testo e evidenzia tutta una serie di criticità anche un po' di mitologie dei sistemi democratici per cui quando si parla di questi diritti fondamentali per la nostra esperienza con la Cina ci si scontra con una realtà di comprensione di governo diversa per cui insomma la Cina agisce attraverso attività programmate che partono da obiettivi economici per cui la loro risposta è noi riusciamo a garantire più lavoro e più occupazione rispetto ai paesi democratici per cui il diritto del lavoro forse alla fine il diritto al lavoro lo riusciamo a tutelare noi per cui alla fine diventa veramente complesso dover navigare tra queste diverse logiche uno spirito più pragmatico in Cina legato ad un contesto dove la leadership deve restare ferma e chiara non può essere messa in discussione e dove invece i paesi occidentali dove vivono in maniera diversa l'esercizio democratico e la vita del sistema giuridico in generale però appunto se si guardano poi questi documenti dove la Cina critica i sistemi democratici occidentali ci si rende conto che ci sono una serie di strutture e quindi questo esercizio io spero che possa diventare sempre più un esercizio appunto quando si parla di diritti umani e così via un esercizio che in qualche modo comporti degli obblighi per entrambe le parti cioè capire poi effettivamente da entrambi i lati che cosa che cosa avviene ecco quindi sicuramente è un argomento complesso che va che va analizzato nel quadro insomma generale anche questa questione ho parlato all'inizio di modernizzazione stile cinese ecco anche questo bisogno di creare un'alternativa c'erano stati gli Asian values la dichiarazione di Singapore a un certo punto e così come se si leggono le dichiarazioni di collaborazione attuali tra Stati Uniti e Cina si parla appunto di necessità di cooperare perché ci sono dei beni comuni dei valori comuni e condivisi ecco per cui spesso questo è lasciato molto all'agenda politica che al dibattito anche diciamo così accademico giuridico su determinati temi come quello insomma ricordato dell'indipendenza della magistratura sono quei temi dove bisogna ricordare lo strumento di funzionalità all'interno del sistema giuridico cinese e questo strumento di funzionalità agli interessi del partito va declinato anche tenendo a mente gli obblighi che il partito ha verso il proprio popolo ecco abbiamo ricordato appunto l'idea di un governo centrato sul popolo per cui è una geometria diversa di rappresentanza e di legittimazione ecco insomma il mio invito è tenere a provare a guardare quest'altra prospettiva quando insomma si affrontano questi temi grazie Ivan Adara senti io ti faccio subito un paio di domande una è collegata a questa perché secondo me uno dei grandi temi che qui abbiamo adesso nella in questa nuova fase della della presidenza e proprio il questo nuovo equilibrio o questo squilibrio meglio che esiste non tanto fra partito e Stato ma fra partito e leader cioè qui dall'Occidente è apparso abbastanza chiaro in qualche modo il tentativo di controllare ancora più fortemente che in passato in qualche modo il gruppo del partito o di plasmare il partito in qualche modo a immagine e somiglianza del leader e questo è penso insomma un elemento su cui sicuramente si può dire qualcosa in più cioè qui l'idea della responsabilità del partito verso il popolo eccetera diventa un po' in secondo piano va un po' in secondo piano nel momento in cui il partito viene completamente dominato da una figura in qualche modo seppur caratterizzata da un ruolo istituzionale come insomma il presidente quindi c'è questo aspetto di sicuramente discontinuità rispetto alla presidenza precedente pur nella diciamo identità del soggetto della persona l'altro dato è ma questo è qualcosa che alcuni osservatori hanno sottolineato è che tu in parte hai richiamato quando hai ricordato il secolo dell'umiliazione la necessità di anche rispondere a questo cioè quanto questo nuovo accentramento risponde a una forma di nazionalismo cinese che forse vuole anche dispondere a quello che viene percepito come il secolo dell'umiliazione e poi terza domanda che fine ha fatto nel tentativo di come hai detto anche tu di ridisegnare l'idea della globalizzazione che fine ha fatto la nuova via della sete da bel terrode initiative di cui tanto si parlava e che sicuramente ha avuto una botta evidente con la pandemia ma che sembra veramente ormai essere finita se non in terzo piano cioè sicuramente ecco in secondo piano ecco quanto era importante prima la bel terrode initiative nella nuova visione della globalizzazione e quanto secondo te oggi insomma è finita in qualche modo nelle detrovie queste sono un po' le considerazioni che volevo sottoporti non vedo altre domande per cui io ti darei diciamo se non se non ci sono appunto altri interventi ti darei la parola per un ultimo giro prego Ivan forse adesso si sente meglio e poi anche provare a riavviare la webcam se ti va grazie Ivan prego ok allora grazie Giuseppe per queste per queste domande il ruolo di Xi Jinping è vero c'è questo ritorno al personalismo è stato sottolineato da varie persone quasi il ritorno al culto della persona da un certo punto di vista Xi Jinping si sente diverso dagli altri leader lui ha avuto anche una un'esperienza più importante rispetto ai suoi predecessori un'esperienza molto simile a quella di Mao Zedong anche lui ha vissuto in un villaggio in una caverna quando era pastore questa caverna è diventata una meta per il turismo rosso il turismo politico il partito cinese come fa intuire tu è un partito complesso con delle contraddizioni interne c'è la parte più estrema c'è la parte più liberale insomma ci sono varie anime all'interno del partito questa di Xi insomma è un è un'ala del partito diciamo una corrente un po' più rigorosa più insomma nazionalista e quindi c'è un ritorno a una figura forte ecco un ritorno ad una figura forte Xi Jinping ha avviato anche una grossa campagna sulla corruzione c'è chi dice per eliminare possibili rivali ma al tempo stesso il problema della corruzione è sempre stato un problema forte qualsiasi persona che ha un po' di esperienze in Cina parla subito di Guanxi che in Cina le cose si fanno se si hanno i contatti e non perché è giusto o perché è ammesso per cui questo è veramente un problema di ordine sociale e richiede una figura forte richiede una figura forte per la cultura cinese ricordiamo al tempo stesso che l'esperienza stessa del partito comunista è un'esperienza sovversiva per la Cina Mao è una persona che studia l'Occidente che guarda al socialismo ad un pensiero straniero per cui tutta l'esperienza nasce da un'apertura all'Occidente e adesso c'è questa chiusura appunto legata a questa forte identità nazionale questo è un elemento importante che è sempre stata una caratteristica della Cina e dell'impero cinese già Montesquieu lo dice qualora un popolo riuscisse a conquistare con la forza militare il popolo cinese e comunque culturalmente ne sarebbe assoggettato perché la cultura cinese è una cultura molto resiliente e forte è accaduto con il buddismo la sinizzazione del buddismo ha richiesto 400 anni ma è avvenuta e quella che è in corso è una sinizzazione dell'esperienza occidentale siamo soltanto a circa 100 anni di esperienza insomma ce ne vorranno ancora degli altri ma la Cina è incamminata in questa direzione l'umiliazione e il potere l'accentramento del potere insomma qui c'è un utilizzo strumentale di questa esperienza io dico sempre ai miei studenti di guardare alla mappa della piazza Tiena Men che è un rettangolo da un lato abbiamo l'ingresso alla città proibita dall'altro lato abbiamo le istituzioni della Cina contemporanea le istituzioni del governo della Cina contemporanea e poi su un altro lato abbiamo il museo il museo nazionale e al pian terreno c'è un'esposizione permanente impressionante con quadri enormi sul secolo dell'umiliazione e anche l'invasione giapponese per cui c'è la necessità di mantenere viva questa memoria per da un lato rafforzare il supporto a partito comunista che è quello che ha liberato che ha portato a delle condizioni migliori dall'altro lato anche per controllare una narrativa che è importante la Cina ha un passato ha una relazione diversa con la storia rispetto a noi questo è anche un altro elemento da tenere a mente abbiamo fatto riferimento prima alla logica non c'è una logica aristotelica c'è un altro tipo di logica taoista in Cina dove gli opposti spesso convivono per cui non c'è imbarazzo a parlare di un'economia socialista e di mercato questa creatività cinese deriva anche da questa capacità di guardare gli opposti come complementari un altro elemento è la relazione con il tempo se nella nostra idea c'è nella nostra cultura c'è l'idea di una linearità del tempo insomma in funzione scatologica o comunque insomma funzione progressiva in Cina il tempo è circolare è divertente è interessante vedere cosa ci dice la lingua da questo punto di vista c'è l'altro ieri cien tien si dice cien tien che però cien significa di fronte quindi la persona idealmente guarda di fronte a sé al passato dopo domani si dice ho tien ho significa dietro alle spalle per cui c'è questo rapporto con il tempo che è diverso e sicuramente insomma il secolo dell'illuminazione e in generale la millenaria splendida tradizione cinese che continua ad essere vivente ecco ricordiamoci che in piena rivoluzione culturale è stata portata avanti una campagna contro Confucio immaginiamo noi insomma oggi a fare una campagna oppure insomma il secolo scorso una campagna di attacco a non so a Socrate a Platone insomma ecco è l'idea con la relazione con il con il il proprio tempo con la propria cultura che è diversa per cui il tempo è sicuramente un elemento importante che gioca il passato gioca un elemento ha una funzione importante la via della seta la via della seta ha avuto un sacco di problemi interni perché appunto in Cina ad esempio non c'è una sanità pubblica mancano delle infrastrutture e quindi il popolo era molto contrariato da questi grandi investimenti all'estero la pandemia ha avuto una battuta di arresto è anche vero che c'è si parla meno di Belt and Road da noi perché c'è anche meno voglia del governo cinese di spingerla verso i nostri paesi si continua a lavorare molto in altri paesi del mondo ecco in tutta l'Asia l'India anche se l'India non ha aderito ma comunque continua ad essere ad esserci partenariati l'India non ha aderito per una questione di occupazione illegale di problemi di una disputa sui confini con il Pakistan e il Pakistan è parte della via della seta ma di fatto gli strumenti all'interno di quella politica vengono utilizzati la Cina appunto fino al 2018 spingeva per promuovere la via della seta nell'Occidente nei paesi del G8 insomma l'Italia aderì a un certo momento ma adesso continuano ad esserci insomma finanziamenti progetti attività la banca legata alla via della seta continua a finanziare i progetti ma in altre zone del mondo in altre in zone diciamo nel sud del mondo nell'America Latina in Africa la Belt and Road è un sicuramente uno strumento di alterazione molto importante dell'ordine globale il 26 maggio il segretario di Stato Anthony Blinken fa una relazione alla George Washington University dove parla di un attacco ai valori fondamentali dell'Occidente che hanno permesso la crescita dell'Occidente così come lo conosciamo noi per cui c'è una la Belt and Road è un'alternativa accanto alla Belt and Road va ricordata la comunità per un futuro condiviso del genere umano tutta un'altra serie di iniziative e da ultimo pubblicata nel Quediano del Popolo dopo il congresso del partito la modernizzazione cinese che si fonda sulla via della seta e su questa visione di un destino condiviso per il futuro del genere umano che sono un'alternativa al modello liberale occidentale ecco cose che cosa consiste in termini di valori fondamentali ancora è difficile dirlo sappiamo che la Cina sviluppando il suo paradigma del cosiddetto law and development dell'utilizzo del diritto all'interno di determinati contesti c'è un ricorso al diritto che è strumentale c'è una operazione di ridisegnamento o di di utilizzo di strumenti giuridici occidentali ma per funzioni diverse a fini diversi la Belt and Road vuole rimanere uno strumento fluido si vuole spingere sempre più su strumenti legati ad esempio alla mediazione e anche l'idea degli arbitrati e di un diritto sempre più formale legato alla Belt and Road Initiative sta diventando meno centrale sono sempre più questi accordi bilaterali dove gli stati negoziano accordi su in base agli interessi del momento per cui è uno strumento molto fluido che non necessariamente spinge per determinati valori politici Anthony Blinken parla anche di diritti umani nel suo discorso in Cina si parla di un approccio pragmatico legato a interessi commerciali poi pensare che questi non abbiano delle implicazioni in termini di valori politici è sbagliato lo abbiamo visto con quello che stava accadendo e che è in corso con insomma a Taiwan le visite del governo americano a Taiwan insomma l'utilizzo del mercato come una forma di strumento di coercizione ecco nelle relazioni tra paesi per cui a mio avviso la Belt and Road continuerà ad essere un progetto importante ma sempre meno diretto all'Occidente ecco diretto ad altre zone del mondo anche qui c'è un altro elemento che ci arriva dalla cultura cinese questa mancanza siccome siamo in chiusura e c'è anche un'altra domanda vuoi appunto chiudere questo punto e prendere anche l'altra domanda in chat come vuoi tu perché abbiamo sette minuti la domanda di Silvia con Andrei non riesco a leggerla allora te la leggo io oppure chiedo a se appunto Silvia se posso se vuole farla a lei appunto è sull'obbligo dei docenti relativamente a questi seminari di immersione nel pensiero di Xi Jinping che sicuramente insomma è un obbligo che confligge fortemente con una certa idea di libertà di insegnamento e chiede appunto se peraltro anche le disposizioni di limitazione di accesso a testi occidentali nelle università se tutto questo non finisca per ridurre la capacità cinese di interloquire con l'occidente ecco se vuoi prendere insieme questo punto e abbiamo sei minuti prego per cui appunto quest'elemento sempre ritorniamo alla logica appunto in Cina manca la logica dell'opposizione e quindi anche la logica della guerra del conflitto è diversa se noi abbiamo l'immagine dei due eserciti che si fronteggiano in Cina no in Cina non si gioca a scacchi dove bisogna mangiare la pedina avversaria si gioca al gioco del go al way c dove bisogna conquistare aree e quindi la logica della via della sede è proprio questa conquistare aree di influenza e non aggredire frontalmente questa idea di competizione trasversale che però non significa che è meno concorrenza o è meno aggressiva ecco c'è una modalità diversa che va insomma declinata in base ai suoi termini l'accesso allora è vero da un lato c'è questa limitazione all'accesso di fonti occidentali insomma quando bisogna pubblicare un libro in Cina un articolo bisogna superare un controllo della censura però al tempo stesso quindi verrebbe da dire che si c'è un problema di conoscenza di ciò che effettivamente avviene in occidente però al tempo stesso il China Scholarship Council continua a finanziare un sacco di borse di studio per studenti cinesi e per professori anche per andare all'estero per diventare ad esempio professore associato in Cina bisogna i cinesi devono aver fatto un periodo di visiting all'estero e il governo aiuta molto a finanziare questi progetti all'estero e questo è in linea con insomma quello che già aveva impostato Denziapinko Jimmy Carter all'epoca dell'inizio dell'apertura cinese all'occidente per cui la collaborazione accademica resta si possono fare conferenze sì è vero bisogna avere un'approvazione prima però poi insomma le persone si incontrano anche al di fuori della conferenza si mangia insieme si fanno dei viaggi e c'è anche questa per cui le informazioni alla fine riescono a passare la presenza di studenti cinesi all'estero comunque continua ad essere importante continua ad essere sostenuta per cui questo controllo anche secondo me ha dei limiti per esempio tutti i professori la Costituzione obbliga tutti i professori universitari a educare dei perfetti socialisti ad allevare dei futuri sostenitori del socialismo cinese per cui non si può insegnare diversamente però al tempo stesso anche la legge sull'educazione universitaria prevede questi obblighi però al tempo stesso è possibile insomma il dialogo c'è lo scambio la possibilità di viaggiare di incontrarsi di parlare anche al di fuori di determinati contesti ambiti c'è e questo è un elemento che comunque continua a garantire un dialogo insomma proficuo con l'occidente la stessa figlia di Xi Jinping studia ad Harvard per cui insomma questa idea della censura è un'idea che ha una serie di contraddizioni interne ed è soprattutto legata ad esigenze di ordine sociale che ha insomma la formazione culturale di una persona c'è stato a un certo punto durante la pandemia il vice rettore dell'università di Pechino che in occasione di una riunione di un organo di governo ha ricordato questa necessità e ha detto che bisogna continuare riaprire la possibilità di viaggiare all'estero e ripermettere insomma restaurare quelle che erano le collaborazioni scientifiche passate perché comunque è importante per la leadership del partito stessa capire realmente cosa sta accadendo all'estero per cui questa resta comunque un'esigenza del partito stesso ecco grazie Ivan grazie per la presentazione per le disposte abbiamo avuto un bel dialogo penso con tutti i nostri amici le nostre amiche e te collegati e ti farà avere quanto prima la bozza del video per la tua approvazione in modo da metterlo poi sul nostro canale youtube io invito tutte e tutti a consultare anche il il sito e il blog di Ivan che è molto utile vi ringrazio tutti e vi auguro a questo punto anche un buon fine settimana e speriamo di vederci presto in presenza dai grazie grazie buon lavoro buon lavoro ciao grazie ancora ciao ciao